Siamo oggi al 9 luglio e invitiamo tutti per domani, 10 luglio, al secondo appuntamento di Terrescosse con l'evento Una giornata leggera, evento che è in collaborazione con gli amici di Italian Free Tour, con formazioni creative di Elisabetta Surico, con Walter Maioli che presenterà suoni antichi della natura e con Alma Migrante, un'altra associazione di amici che saranno in estemporanea con noi domani. Invitiamo tutti, la coda di partecipazione è una pizza di pasta per un picnic in una giornata leggera. Fran? Che devo dire? No. Ciao. Non lo so. No, no, era per domani. Ah, domani. Ciao a tutti per domani.